DOLLAR O YEN ANALISI GIORNALIERA 23 APRILE 2015 FXEMPIRE.IT Come potete vedere durante la sessione di mercoledì la coppia DOLLAR O YEN si muove inizialmente in ribasso per trovare supporto su livelli inferiori e rimbalzare per chiudere la sessione con la stampa di un martello. La figura è indubbiamente rialzista e ci aspettiamo che la coppia raggiunga presto quota 120,50. Andando avanti ci aspettiamo che questo mercato continuerà a fornire ottime opportunità di acquisto, sebbene non mancheranno turbolenze.